TV, gente animale, gente cazzo, di scienzi, mimo, mimo, cominciamo a perdere il cervello. Sensibile, proteiforme, faccia da pergamena e voce piena, viso scolpito e argomentare antico. Che ci dissero i figli, petti, petti, petti? Che ci dissero, patri? Sì, petti. Altri segni particolari, autoironia. Sono nato a vecchio e sono rimasto uguale. E umiltà. Ma ho raggiunto l'esperienza ma non la saggezza, conferma? Beh direi di sì, 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 salto. Forse neanche l'esperienza a questo punto. All'unanimità è considerato un interprete anticonvenzionale e sublime. La massa è schifosa. La prossima settimana a retroscena tutti i segreti del teatro di Roberto Erlitzka. Grazie a tutti.